sì 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 è venerdì 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 è venerdì è venerdì dopo il culo tu quando senti a venerdì parti al razzo dei cani parti al razzo dopo devi farti pronto per la telecamera dammi retta è meglio per la telecamera fai così e poi indietro provalo no un po' più sciogli più sciogli tu fai l'albatross fondamentalmente ma io l'albatross in che senso l'albatross fondamentalmente ma io qui che mezzo che è più coccodrillo meno albatross ok sei concentrato il coccodrillo è stato l'acqua è sciolto e beh ma io scusate quando ce l'ho non volevo ogni cosa che ne vuoi ecco fatto no sciatore provici sciatore vai scia scia è la scia è semplice parola te l'ho detto cento volte ma balla che balla fai così muove fa il movimento del è semplice dai cazzo io non so buono dai luci va bene va bene è finita la favola del coccodrillo eccola levo la canna che ora fa tirato lì levo questa tuta ti riporvi ce la dai ti riporvi